Grazie a tutti. La canestra Germani sconfitta a Venezia per 94,87. Domenico anche l'Atlantica Palavolo Brescia. Care amiche, da oggi si può. Stirare al massimo e senza pieghe finalmente è possibile. Termostir, creata per realizzare il vostro sogno. A casa o in stireria, la vostra garanzia. Una buona sera dalla redazione di E-Live. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. La notizia del giorno è sicuramente quella dell'apertura dell'hub vaccinale in fiera anche a Brescia. L'avvio della campagna di vaccinazione massiva. Sentiremo le parole del direttore generale della SST, Spedale Civile di Brescia, Massimo Lombardo, che ci spiega un po' come è strutturato questo hub vaccinale dalle dimensioni sicuramente importanti. Prima giornata che ha visto vaccinate 1100 persone su otto linee vaccinali dalle 8 di mattina alle 20 di questa sera. Per quindi vaccinazioni ancora in corso, la SST ci ha fatto sapere che si sono verificati due lievi malori dopo la vaccinazione, malori che non hanno avuto necessità di cure particolari. Infatti sono stati gestiti in loco dal personale già presente nel centro vaccinale. Sentiamo allora il direttore Lombardo che ci spiega com'è questo nuovo hub. Siamo partiti oggi, stamattina alle 8, 12 aprile. Abbiamo iniziato la vaccinazione massiva, la fascia di tasse 75-79. Come vedete questa è una porzione del nostro hub vaccinale, sono le prime 16 linee, ne stiamo allestendo altre tre identiche a queste. C'è stato un po' di flusso all'inizio alle 8 perché sono arrivati tutti insieme, anche per la curiosità, ma adesso come vedete il flusso si è stabilizzato. Abbiamo le aree, l'area di accettazione e di anamnesi che poi portano in una maniera direi ordinata verso l'area di somministrazione del vaccino e questa parte che vedete alle mie spalle con le poltroncine rosse, con le sedie rosse e l'area di attesa post vaccino. Io credo che questo sia un momento importante perché il territorio bresciano è un territorio in cui il virus sta circolando tantissimo ormai da mesi. Sono 5 mesi da ottobre quando è iniziata la seconda ondata che noi abbiamo sempre avuto tamponi positivi in tripla cifra mediamente. Siamo arrivati a 500 ricoveri, 50 pazienti in terapia intensiva, solo noi come SST spedali civili, ma non dimentichiamo che questo fenomeno da 5 mesi ha interessato anche il Garda, la Franciacorta, Poliambilanza e Iob. Credo che l'unico modo per uscire veramente da questa situazione sia concentrare uno sforzo straordinario. Ecco perché è una struttura così grande. Noi vorremmo in 2-3 mesi, i vaccini permettendo, consentire di vaccinare la più ampia parte della popolazione del nostro territorio in maniera da interrompere questa catena dei contagi. Io voglio ringraziare tutta la SST spedali civili e non solo perché collaboreranno qui nell'apertura delle nostre linee vaccinali e anche gli altri soggetti sanitari e sociosanitari in un'organizzazione che vedete e che è il frutto dell'impegno della dottoressa Indelicato che sin dai tempi di Via Morelli sta studiando questo modello. E ovviamente l'inaugurazione di questo hub vaccinale sarà la parte più consistente della puntata di questa sera di Restart Brescia. Ovviamente è alle 21 con il nostro direttore Paolo Bollani ma non si parlerà solo di questo. Ci colleghiamo subito con lui per capire quali sono i vari temi trattati nella puntata di questa sera. Linea a te direttore. Sì, buonasera Francesco. Ovviamente stasera non potevamo non portarvi al centro vaccinale della Fiera. Bricks Expo che diventa l'hub vaccinale di tutta la provincia bresciana. Ne abbiamo parlato nel corso delle telegiornali. Vi portiamo all'interno con il direttore generale. Faremo proprio un tour per spiegare come funziona e sperando che funzioni sempre come questa mattina perché effettivamente è un'organizzazione davvero impeccabile perlomeno in questo avvio dell'hub al centro Fiera. E poi parleremo anche di trasporti perché si ritorna a scuola e gli istituti scolastici andranno a regime tra martedì e mercoledì e quindi torna il nodo trasporti con quello che si sta facendo. In collegamento avremo Claudio Bragaglio, presidente della TPL, che ci dirà appunto come si stanno organizzando i trasporti per riportare a scuola in sicurezza tutti i nostri studenti. Ci vediamo alle 21. Grazie direttore, quindi appuntamento da non perdere assolutamente con tutte le voci dal centro Fiera e la situazione trasporti in ottica a scuola questa sera Restart Brescia ore 21 ovviamente su e-live e in tv ovviamente sui nostri canali web e social. E proprio il fatto che gli studenti tornino in classe o parte degli studenti, ad esempio delle superiori, tornino in classe è una diretta conseguenza del fatto che da oggi la Lombardia è arancione. Allora cerchiamo di capire insieme quali sono i principali cambiamenti, quali sono i principali allentamenti di questo passaggio di fascia. Da questa mattina la Lombardia è in zona arancione. Dopo settimane di rosso arriva qualche allentamento che principalmente possiamo riassumere in tre punti cardine, scuola, spostamenti e negozi. Per il primo punto tornano in classe in presenza le seconde e le terze medie al 100%, mentre per quanto riguarda le superiori la capienza ammessa va dal 50 al 75%. Gli spostamenti tornano ad essere concessi senza autodichiarazione all'interno dei confini comunali, dove torna anche possibile la visita a parenti e amici per una volta al giorno, massimo in due persone, salvo minori di 14 anni o persone non autosufficienti. Non cambiano invece le norme dal di fuori del paese di residenza o di domicilio. Riaprono tutti i negozi in primis parrucchieri e centri estetici. All'interno delle attività bisognerà ovviamente rispettare sempre tutte le norme che ormai ben conosciamo. Nei giorni festivi e prefestivi sono chiusi i negozi all'interno dei centri commerciali, ad eccezione delle attività ritenute essenziali. Nulla cambia sul fronte del coprifuoco, spostamenti consentiti dalle 5 alle 22 e su bar e ristoranti con asporto e domicilio. Stesso discorso vale per palestre e piscine che continuano a rimanere chiuse, mentre diventa possibile recarsi in centri o circoli sportivi pubblici o privati del proprio comune per svolgere esclusivamente all'aperto attività sportiva di base. Come sempre ora veniamo al capitolo dati, al capitolo bollettino sull'andamento del contagio. Per farlo ci spostiamo sul nostro sito elivebrescia.tv dove poco fa abbiamo pubblicato i dati del contagio riferiti alla Lombardia e alla nostra provincia. Vediamo che si riducono i ricoveri con pochi però tamponi. Lo sappiamo, i dati del lunedì sono influenzati da questo effetto weekend. Oggi il tasso di positività cala e arriva al 5,2%. Quest'oggi l'infografica della regione c'è, quindi le diamo uno sguardo nel dettaglio molto rapidamente. Vediamo che i tamponi sono 19.022, quindi praticamente meno della metà rispetto a quelli della giornata precedente. 997 nuovi positivi venuti alla luce con un tasso di positività, l'abbiamo detto, al 5,2%. Pensiamo solo che ad esempio una settimana fa, insomma dopo il weekend della scorsa settimana, il tasso di positività era all'8%, quindi una diminuzione che sicuramente c'è e cominciamo anche a vedere. Brescia è nuovamente seconda per nuovi contagi, 153 quelli riscontrati nell'ultima giornata. Al primo posto Milano con 341, al terzo invece Bergamo con 117. Tutte le altre province lombarde invece non superano i 100 nuovi contagi. Per quanto riguarda i decessi, un dato sicuramente ancora alto, sono 62 le segnalazioni dell'ultima giornata, anche se dobbiamo dire anche in questo caso vediamo una lieve riduzione rispetto ai dati della scorsa settimana, vedremo se sarà una riduzione destinata a confermarsi anche nei prossimi giorni, ovviamente lo speriamo tutti. Per quanto riguarda i ricoveri, l'avevamo visto nel titolo, c'è una sorda di diminuzione, vediamo un meno 3 per quanto riguarda le terapie intensive e un meno 133 per quanto riguarda i ricoveri convenzionali. Quindi una pressione sugli ospedali lombardi che si comincia a ridursi, comincia a ridursi sicuramente in maniera consistente per quanto riguarda i reparti covid convenzionali, discorso diverso per quanto riguarda le terapie intensive. A proposito di questo vi riporto subito anche sul nostro sito internet, perché sono arrivati davvero pochi minuti prima del telegiornale anche i dati riferiti ai ricoveri al civile, a SST Spedali Civili di Brescia, arriva una buona notizia, vediamo il virgolettato, chiara tendenza alla diminuzione dei ricoveri e questa è la valutazione che fa la SST Spedali Civili di Brescia in merito al trend nel medio periodo, circa un mese nell'andamento dei ricoveri, quindi si evince una chiara tendenza alla diminuzione che però, come abbiamo visto anche nel bollettino regionale, non trova ancora un'evidente corrispondenza nel numero dei letti di terapia intensiva, seppure negli ultimi giorni la riduzione sia consistente, questo conferma il ritardo con cui le terapie intensive risentono della riduzione dei ricoveri e corrisponde al decorso comportamento della malattia. Quindi vediamo che ciò che abbiamo visto nel bollettino regionale si riscontra perfettamente anche in quello che è l'andamento della SST Spedali Civili di Brescia, un calo importante nei ricoveri convenzionali, si svuotano con più fatica invece i reparti di terapia intensiva. E proseguiamo anche parlandovi di una sperimentazione, una sperimentazione che in realtà non tocca la nostra Brescia ma chissà che prima o poi non arrivi, ovvero i treni Covid Tested. Per salire bisogna avere il tampone negativo. Attualmente si tratta solo di una sperimentazione su un'unica linea, la tratta Milano-Roma. Proprio perché è una sperimentazione però, chissà che se i risultati siano buoni, l'idea non possa essere allargata anche la trafficatissima Milano-Venezia che passa anche dalla nostra città. Stiamo parlando dei treni Covid Tested, ossia, in parole povere, convogli dove per salire bisogna avere un tampone molecolare o antigenico negativo non più vecchio di 48 ore. In mancanza di certificato è anche possibile fare il test gratuitamente prima di salire a bordo del treno. Questo è il protocollo sperimentale varato da un'ordinanza regionale nelle scorse ore per alcuni convogli individuati in precedenza e che partiranno dal 15 aprile dalle stazioni di Milano-Centrale e Rogoredo con destinazione La Capitale. Questo provvedimento varrà fino a fine giugno e attualmente la regione in realtà non pensa di applicazione su altre linee, ventilando solo la possibilità di proroga in caso di buoni risultati. Per aprire la pagina di cronaca di questo giornale vi porto nuovamente su elivebrescia.tv, il nostro sito internet, perché così possiamo leggere insieme quella che è la nota del SINAP, arrivata in redazione davvero poco tempo fa, sulla situazione di Canton-Mombello, il carcere cittadino, la casa circondariale cittadina. Basta leggere il titolo per capire l'entità di questa situazione. A Canton-Mombello un'altra giornata di follia. Detenuti barricati hanno messo a suo quadro un'intera sezione, quindi dopo le denunce che avevamo già riportato settimana scorsa, anche quest'oggi un'altra giornata definita di follia proprio dagli agenti di polizia penitenziaria dentro il carcere di Brescia. Leggiamo, vedete che è un virgolettato, è proprio il comunicato che arriva dal SINAP. SINAP detenuti hanno messo a suo quadro una sezione intera, barricati hanno spaccato su pellettili e lanciato di tutto contro i poliziotti colpevoli di essere lì in servizio. È l'ennesima denuncia che arriva di nuovo dal SINAP. Anche oggi si legge nella nota come accade da tempo, ormai l'istituto Bresciano ha vissuto momenti di pura follia. Per quanto tempo dobbiamo subire? Cosa si aspetta di intervenire a questo gioco di massacro? Noi non ci stiamo. Chiediamo all'amministrazione un intervento urgente. Se volete leggere la nota completa ovviamente la trovate sul nostro sito internet. Tra l'altro, come avevamo già annunciato, anche grazie all'intervento, i nostri microfoni di Antonio Fellone, proprio segretario del SINAP, il 16. Quindi questa settimana ci sarà proprio un sit-in per sensibilizzare popolazione e istituzioni su questa situazione, che a questo punto possiamo anche definire drammatica all'interno del carcere di Brescia. Sempre per la cronaca vi parliamo di un tragico ritrovamento venuto nella giornata di ieri a Villanuova sul Crisi. Nei pressi, a ridosso della strada statale 45 bis Gardesane, è stato trovato un cadavere, potrebbe essere, ricorderete, anche quello dell'anziano scomparso lo scorso mese di ottobre. Da lui, fin da quel momento, non c'è stata più traccia. Il cadavere di una persona è stato ritrovato attorno alle 10 della scorsa domenica a Villanuova sul Crisi, in località Monte Cobolo. Per la precisione, sul lato che si affaccia alla strada statale 45 bis Gardesane. Immediato, l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Brescia con il supporto dell'autoscala per le operazioni di recupero. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, il personale del soccorso alpino e speriologico della Lombardia e il 118. Manca la conferma che potrà arrivare solo dopo le analisi, ma potrebbe trattarsi dell'anziano di 88 anni scomparso d'ottobre e del quale non si hanno più notizie. Le ricerche si erano protate per giorni con un ampio dispiegamento di forze e di mezzi, ma non avevano dato alcun esito. Tre interventi in appena poche ore, questo è il bilancio fatto dai vigili del fuoco nell'ultima nottata. Fortunatamente interventi tutti andati a buon fine, non c'è stato nessun ferito. I vigili del fuoco l'hanno descritta come una notte movimentata, quella appena trascorsa con tre interventi, in appena una manciata di ore fra città e provincia. Attorno alle tre è stato necessario far intervenire un autogru in via panoramica in città per permettere a un'ambulanza di proseguire il suo percorso. A causa della pioggia che nelle ultime ore è caduta copiosamente, infatti, la strada era parecchio scivolosa, a tal punto che il mezzo del 118 non riusciva più a salire un tratto di strada parecchio ripida. L'intervento del potente mezzo dei vigili del fuoco ha permesso di liberare l'ambulanza, che fortunatamente era in fase di rientro da un soccorso e non si sono registrati feriti. Il secondo scenario di emergenza si è verificato circa un'ora dopo, questa volta a Coglio Valtrompia, sulla strada provinciale BS 345, un centinaio di metri prima del paese in direzione Brescia. Probabilmente, anche in questo caso, a causa delle piogge, la strada è stata interessata da una caduta di massi senza, per fortuna, persone o mezzi coinvolti. Questa mattina la viabilità era ancora in regime di senso unico alternato nell'attesa dell'intervento delle autorità locali competenti. Il terzo ed ultimo intervento della nottata, o meglio, ormai della prima mattinata, è avvenuto attorno alle sei. In questo caso si tratta di un incendio divampato all'interno di un'azienda di lavorazioni meccaniche in via Sampio a Ospitaletto. Grazie all'utilizzo dell'acqua schiumogenata, l'intervento ha permesso di domare l'incendio in poco tempo, senza feriti né intossicati. La politica ora perché non smette di far discutere l'attacco hacker alla rete del comune di Brescia. Ormai ricorderete, è avvenuto prima di Pasqua. Il comune ha anche fatto sapere che i servizi online sono tornati attivi ormai da alcuni giorni. Però sul piano politico questa vicenda sembra non placarsi. Le minoranze in consiglio comunale chiedono trasparenza all'amministrazione, con particolare modo per quanto riguarda i dati sensibili dei Bresciani, se sono salvi, se sono conservati e protetti nel modo migliore. Sentiamo queste richieste sintetizzate dalla viva voce di Massimo Tacconi, consigliere comunale della Lega. Noi chiediamo sicuramente una cosa che è dovuta nei riguardi i nostri concittadini, la trasparenza. La trasparenza implica il fatto che ci venga spiegato se i dati dei nostri concittadini, i dati sensibili ma anche i dati personali, sono ancora nei server del comune di Brescia e non siano, come sembra, accrittati, perché questo sarebbe sicuramente un fatto gravissimo. Noi chiediamo inoltre che tutte le procedure dei trattamenti dei dati personali siano ovviamente state rispettate. Ad oggi non abbiamo avuto risposte, quindi è questo che noi chiediamo, trasparenza e ovviamente risposte alle domande che noi facciamo. Le domande che facciamo le facciamo non tanto perché sappiamo benissimo che gli attacchi hacker ormai, purtroppo ahimè, sono diffusi in gran parte d'Italia e tutti gli enti a tutti i livelli vengono presi di mira, ma perché di fatto ci deve essere ovviamente delle procedure che salvaguardiano tutti questi dati personali che sono dati che non possono essere ovviamente diffusi e che quindi va ovviamente nella sicurezza dei dati che i nostri concittadini giustamente chiedono all'amministrazione pubblica. Perché voglio soltanto far presente una pratica edilizia, piuttosto che ovviamente l'anagrafe, piuttosto che le gare, le gare d'appalto, piuttosto che i servizi sociali che ovviamente necessitano ormai con il processo di informatizzazione che è stato fatto dalla loggia, sicuramente un investimento economico che permetta che questi dati ovviamente non vengano toccati o che quantomeno se sono criptati vengano tenuti ovviamente in salvaguardia in altri serve e in altre unità ovviamente staccate da quelle che sono interne. Staremo a vedere se questa vicenda politica avrà ulteriori sviluppi nei prossimi giorni. Ora voltiamo pagina, parliamo del meteo, abbiamo visto sono arrivate copiose le acque di pioggia anche sulla nostra provincia, anche oggi insomma ha piovuto un po' tutto il giorno, un po' in tutto il territorio di Brescia e della provincia, proviamo a spingerci un po' più avanti nella settimana per capire se qualcosa cambierà con gli amici di Trebi Meteo. Satellite già stazionario, 36 mila chilometri di altezza che ci fotografa un lunedì perturbato sull'Italia, complice questa perturbazione che sta transitando da ovest verso est. Nuvolosità compatta sulle regioni centro-settentrionali, piogge attesa per il sud, però questo minimo depressionario raggiungerà anche le estreme regioni meridionali. Quando? Lo vediamo con la prossima grafica. Intanto prossime ore, pioggia al centro-nord, a tratti anche intense, battenti sulle vante ligure e le zone prealpine, nevicati in calo in serata anche sotto i mille metri di quota sulle alpi settentrionali. Dicevo, piovaschi in arrivo anche verso la campagna e poi in nottata anche alcune zone del sud, specie tra Puglia e Basilicata. Di fatti poi la giornata di domani sarà a tratti instabile sulle regioni del centro-sud, con questo minimo depressionario, fenomeni concentrati però in particolar modo centrali tirreniche, medio, basso, adriatico, neve sull'Appennino, ultime piogge che si attarderanno anche tra Venezia ed Emilia-Romagna, con neve a quote basse sulle Dolomiti. Più sole al nord-ovest perché la perturbazione traslerà verso est, verso i Balcani. Cosa succede poi tra mercoledì e venerdì? L'anticiclone sarà presente ma sull'Europa centro-occidentale con i suoi massimi, massimi proprio tra Francia e isole britanniche. Questo permetterà di fatti la discesa di aria più fredda dai settori centro-settentrionali del ecchio continente verso l'Italia, con temperature contenute, specie al nord. Grandi precipitazioni non ce ne saranno, anzi mercoledì una bella giornata, però giovedì e venerdì non escludiamo qualche fenomeno pomeridiano possibile ridosso le zone montuose. Cambiamenti di nuovo, forse a partire dal weekend potrebbe riformarsi una lacuna barica con precipitazioni in arrivo sull'Italia, sul Mediterraneo. Seguite tutta l'evoluzione dinamica scaricando l'app di Trevi Meteo. Ora ci prendiamo davvero pochi secondi di pausa ma restate con noi perché torniamo a parlare di sport e purtroppo dobbiamo parlare di due sconfitte ma vediamo poi più tardi, a fra poco. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione e-live play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast. Care amiche, da oggi si può stirare al massimo e senza pieghe finalmente è possibile. Termostir, creata per realizzare il vostro sogno. A casa o in stireria, la vostra garanzia. Una buonasera anche agli amici sportivi di e-live. Come anticipato dobbiamo purtroppo parlare di due sconfitte. Andiamo con ordine e parliamo della sconfitta della Germani. Infatti purtroppo arriva a Venezia, sprofonda in laguna la Germani, la palla canestro Brescia. Arriva la quinta sconfitta di fila e i play-off purtroppo si allontanano sempre di più. Sono cinque le sconfitte di fila per la palla canestro Brescia. Una vittoria che manca ormai dallo scorso 28 di febbraio. Una vittoria che serviva disperatamente contro Venezia per poter dare un segnale a questo finale di regular season. Purtroppo il tabellone del Tagliercio recita 87 a 94. Altro giro, altra sconfitta. In un palazzo che fra l'altro rimane tabù. Zero vittorie per la Leonessa nella Tana dei Veneti. Eppure questa sera qualche segnale c'era stato. Nei primi 15 minuti di gioco c'è un grande Brescia in laguna. Willis, Burns e Wilson tengono a galla la squadra di Buscaglia riuscendo a restare a contatto con il roster di De Raffaele. Gli ultimi 5 del primo tempo sono però un incubo. Difensivamente non funziona più nulla. Watt invece va benissimo ed è mattatore della partita. 60-46 e si va negli spogliatoi. Una partita che nella ripresa sembra avere lo stesso trend ma Wilson non è d'accordo. L'americano si prende la Leonessa sulle spalle e chiude la difesa. Poi riesce anche ad essere efficace in attacco assieme ai soliti noti. 10 punti segnati dalla Reier nel solo terzo quarto. Ne aveva segnati 60 in due quarti di gioco. Sistemata la difesa ecco che è l'attacco ad avere problemi. La Reier dopo essere stata sul più 2 si ritrova sul più 11 in due minuti. Un vantaggio troppo grande da recuperare nonostante il cuore messo in campo dai bianco-blu. 94-87. Mercoledì contro Cantù la sfida da non sbagliare. La pallavolo ora scusate con l'Atlantide dopo il bel passaggio del turno. Lo ricorderete con la doppia sfida contro Castellana. I Tucani impattano purtroppo gara 1 contro Bergamo. Però le speranze sono tutt'altro che finite. Infatti mercoledì c'è gara 2. C'è la gara 2 in casa e la speranza ovviamente è quella di riportare il conto sul pari. Sentiamo le voci dopo la gara appunto dei Tucani. Siamo partiti molto bene sul campo che conosciamo essere difficile. Loro si sono sciolti dal secondo set. Peccato che il secondo set poi abbiamo sprecato qualche occasione. L'arbitro non ha fischiato una doppia calamorosa al loro palleggiatore a metà set in cui stavamo facendo dei prechi importanti. Però peccato perché non abbiamo saputo capitalizzare poi alcune occasioni anche nel terzo set che è stato giocato alla fine e perso 25-23. Peccato ma abbiamo dimostrato che ci siamo e a Brescia venderemo ancora gara la pelle. Siamo tranquilli, siamo consapevoli del nostro potenziale. Purtroppo ancora commettiamo tante ingenuità soprattutto nei contraattacchi e rispetto a loro abbiamo fatto vedere qualcosa di meno in copertura e difesa. Però penso che ce la possiamo giocare come è successo oggi nel primo e nel terzo set. Siamo partiti molto bene, carichi. Siamo riusciti a imporre il nostro gioco, a limitarli in battuta, a tenerli bene. Peccato poi per il proseguo. Forse nei tre set successivi è mancato qualcosina magari in difesa, copertura, qualcosa di facile che poteva essere fatto meglio nelle fasi cruciali dei set che poi ci ha fatto un po' perdere il treno e poi la partita si è incanalata nella loro direzione. Adesso testa subito a mercoledì prossimo e vediamo di farci trovare pronti per portare la gara 3. Primo set siamo partiti veramente carichi e loro secondo me non se l'aspettavano. Infatti hanno fatto un po' fatica. Poi sono venuti fuori come una grande squadra che sono loro e noi purtroppo abbiamo ceduto un po'. Non siamo riusciti a mantenere quello che siamo riusciti a fare nel primo set e purtroppo è andata così. Siamo una squadra che può combattere contro uno a Bergamo e sicuramente riusciremo a farlo anche in casa. Speriamo che sia un'altra battaglia e vedremo se riusciranno a espugnare il nostro castello. Ovviamente speriamo che quella di mercoledì non sia l'ultima partita stagionale per i tucani ma riescano ad allungare questa serie di playoff e ovviamente a passare il turno. Io invece mi fermo qui con il telegiornale anche perché è davvero molto tardi. Solo vi ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito internet livebrescia.tv eccolo qua dove trovate la diretta di live in questo piccolo box e tutte le possibilità per iscrivervi tanto alla nostra newsletter il Pirlo delle 6 per ricevere i top news della giornata nella vostra casella di posta elettronica alle 18 ogni sera tanto ai nostri canali telegram e livebrescia news e livebrescia sport e ricevere così invece tutte le notizie appena vengono pubblicate sul vostro telefono cellulare. In conclusione io vi ringrazio per averci scelto anche questa sera vi invito a restare con noi anche perché alle 21 arriva e torna Restart Brescia abbiamo sentito una puntata davvero su cosa, una puntata davvero molto interessante da non perdere. Io vi ringrazio davvero, vi auguro una buona serata e a domani. Nella sezione E-Live Play del nostro sito internet puoi riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast. Grazie 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 Grazie